grazie ragazzi una live improvvisata ieri con Alessandro G improvvisata un ora prima quasi cinquecento persone collegate dei numeri altissimi già vista da cinquemila persone eh grazie Giuse fate più live eh di questo tipo se ci volete premiare iscrizione al canale che è gratis e campanellina questo è è un è una è una una cosa che ci dà soddisfazione far crescere il canale non chiediamo niente a nessuno ognuno è libero di guardare il canale o di non guardarlo quindi ragazzi iscrizione al canale gratis e campanellina l'inter è di tutti gli interisti l'inter deve essere di tutti gli interisti gratis soprattutto per sentire parlare un semplice tifoso come me perché io sono un semplice tifoso come voi io non sono uno youtuber io sono un tifoso dell'inter ci tengo a sottolinearlo punto Qatar Airlines bisogna dare dei meriti anche e soprattutto ad Alessandro che anche lui ne ha passate di hot e di crude su YouTube in questa giungla Qatar Airlines era un nome che non aveva fatto nessuno addirittura eh ci furono delle critiche ma come fate a fare un nome dei di di Katarioti con una proprietà saudita Qatar Qatar Airlines oggi sta entrando nell'inter a quanto pare giusto ma Qatar Airlines punta ad essere main sponsor non si accontenta delle briciole dipende da quello e farà Paramount tra l'altro io sottolineo anche il fatto ok perché non deve sempre piovere ci deve essere anche il sole giusto ci sia anche il sole sottolineo anche che questo canale disse che molto probabilmente ci sarebbe stato uno sponsor provvisorio che è Paramount poi da lì a dire che Paramount scomparirà dalle maglie dell'inter ce ne vorrà perché molto probabilmente rimarrà anche Paramount quello che ti voglio dire sullo sponsor Katariota che sembrava ma com'è possibile allora Qatar Airlines eh sei anni fa era su una maglia di un club saudita quindi di cosa ragioniamo dell'ali Saudi quindi di cosa vuoi ragionare uno sponsor Katariota è già stato addirittura sponsor di una squadra saudita di cosa vogliamo ragionare bastava informarsi prima di dire soprattutto qualcuno che scrive sui giornali eh con lo sponsor Katariota addio sauditi addio sauditi che sono già stati sponsor i Katarioti dei sauditi ma di cosa ragioni quello che mi hanno detto che sappiamo noi che sa soprattutto alle G e che loro puntano a diventare miei sponsor mettendo sul tavolo cifre importanti partendo da circa 35 milioni per arrivare a 45 milioni all'anno ci siamo capiti quindi questo è stato l'unico canale su YouTube ovviamente è giusto prendersi i meriti ma è stato l'unico che ha fatto il nome di Qatar Airlines l'unico anche lì rotture di scatole ma fate i nomi dei Katarioti non ci avete capito nulla Qatar Airlines un'altra cosa che ti voglio far notare ma te 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 sì parlo con te te affiancheresti il tuo brand sto parlando di Qatar Airlines ovviamente ad una società potenzialmente fallimentare e questa è la domanda da porsi te la ripeto perché la voglio sottolineare te affiancheresti il tuo brand ad una società potenzialmente fallimentare no quindi cosa vuol dire l'entrata di Qatar Airlines perché ragazzi la Roma è ancora lì con SPQR come sponsor e a noi ci piovono fette importanti da colossi perché secondo te perché sanno che sta per cambiare l'azionista di maggioranza ecco perché accadono queste cose ormai te mi dirai Giuse è il segreto di Puccinella sta per cambiare la proprietà ho capito ma io ti devo fare il discorso e arrivare fino in fondo ragazzi io vedo tantissime vedove di Lukaku per l'amor di Dio ognuno parliamo di Inter Benfica partita fondamentale parto da un presupposto che tutti gli interisti mi ci metto anche io mi ci metto anche io ragazzi non ho problemi io io non ho problemi a prendermi ora prendermi le responsabilità in questo caso è un parolone ma noi interisti abbiamo sottovalutato questo girone ragazzi parliamoci chiaro guardiamoci negli occhi abbiamo sottovalutato questo girone lo abbiamo sottovalutato vedo tantissime e vedove di Lukaku ma ragazzi ma la Tula è un netto upgrade alla Lula soprattutto nelle partite dove si alza il livello Real Societad entra Turam la schiaccia con la sua velocità con la sua potenza loro erano stanchi tutto quello che vuoi schiaccia la Real Societad nella propria area fa un gol Turam lo annullano per 5 centimetri come a Eppoli perché qualcuno si scorde Turam ha fatto gol anche in Spagna annullato proprio sul filo entra Turam Lautaro Martinez fai Lautaro Martinez e viene schiacciata la Real Societad in area non escono più praticamente quindi la Tula la Tula rispetto alla Lula è un netto upgrade soprattutto per le partite di livello alto quindi in questo girone dove secondo me tutti noi turisti lo abbiamo sottovalutato è fondamentale è un girone imprevedibile parliamoci chiaro ce ne siamo accorti tutti ormai giusto è un girone imprevedibile sottovalutato da noi turisti non dio sottovalutato dalla squadra sto dicendo di noi io sto parlando di noi tifosi e sarà fondamentale la gestione delle risorse la gestione delle risorse sarà fondamentale per far bene in questo girone di Champions League te mi dirai grazie al Kaiser Giuse no io te lo ridico è fondamentale la gestione delle risorse per far bene in quei e dei particolari soprattutto bisogna essere bravi a gestire particolari perché questo è un girone difficile Benfica te l'ho detto ieri la squadra che palleggia che viene giù no no non bisogna permettergli di far girare la palla veloce di palleggiare più di tanto perché poi prendono fiducia e e comunque non hanno un nove un killer davanti ma è una squadra pericolosa hanno vinto contro il Porto solo in fiducia hanno comunque Di Maria che ha dato tanta personalità alla squadra non è il Di Maria di 6-7 anni fa lo sappiamo tutti ma è comunque un giocatore che dà tanta personalità e sicurezza alla squadra quindi occhio 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 iscrizione gratis e attivami la campanellina personalizzamela con le vibrazioni con i suoni come ti pare va bene ciao inter ah what's there Turkish Airlines quando fammi dire un'altra cosa quando fu fatto su questo canale in nome di Qatar Airlines eccoli i catariotti e i sauditi poi tra l'altro ci offendevano Turkish Airlines what's there Saudi Ruiz suegdo Che piùOPnet ciao inter ah... 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 ah